Siamo allo sport, volley maschile di A1, match difficile per la Kioene Padova battuta in casa dalla Consar Ravenna per 3-1. Due ore di partita sul filo dell'equilibrio, vinta per maggiore concretezza nei finali di set dagli emiliani. Parziali di 24-26 e 25-27, poi di 25-21 per il terzo e unico set che ha visto imporsi i padovani, infine di 22-25 per il 3-1 finale.